Siamo oggi da Dedalo con il titolare Elia Devoti che ci racconta questi meravigliosi arredamenti realizzati in marmo di Carrara. Partiamo magari da quello che è il vostro diciamo fiore all'occhiello. Certo, questo è il biliardo in marmo. Da 5 anni abbiamo iniziato la produzione di questo prodotto, del biliardo in marmo. Ci sono vari modelli. Siamo gli unici produttori al mondo del biliardo in marmo e abbiamo iniziato con la distribuzione in America dove abbiamo un partner commerciale e adesso, quest'anno, dal 2019 abbiamo cominciato a distribuire anche in Europa. I prossimi mercati saranno i mercati medio orientali. Infatti, durante questa manifestazione abbiamo stretto un accordo di commercializzazione per il Medio Oriente. Ma voi fate, oltre a questo meraviglioso biliardo, fate anche oggetti insoliti per la casa come quella vasca ondulata con questo vetro spesso inserito al suo interno come vasca da bagno. Me la puoi raccontare un attimo? Sì, praticamente noi produciamo anche arredo bagno. L'idea di questa vasca nasce per riproporre la forma della chaise longue. La chaise longue, rieditata diciamo in questo materiale che è lapideo, abbiamo però voluto alleggerire, raccontare meglio la forma di questa vasca sostituendo le pareti che generalmente sono di marmo con delle pareti in vetro che donano una nota di contemporaneità, di freschezza che finora forse mancava nel parlinorama del prodotto lapideo di lusso. Diciamo che anche alleggeriscono molto il design della vasca, perché col blocco in marmo di questo genere due pareti in vetro sono veramente belle. Abbiamo bisogno sempre di luce per mettere in risalto ogni cosa ed effettivamente qua il vetro ci aiuta a mettere in luce il marmo. Grazie. Grazie.